Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per essere collegati a una nuova puntata di Sham on Air, l'appuntamento della Mutual Sham dedicato al mondo di chi si occupa di sicurezza e rischio in sanità. Io sono Tommaso Visentini, mi occupo della redazione di Sanità 360 che è un po' la casa, lo spazio online dedicato ai risk manager e agli esperti di sicurezza delle cure in Italia, edito dalla Mutual Sham. Oggi per entrare subito nel video parliamo di un trasferimento di informazioni dalla gestione dei sinistri alla gestione del rischio, è quello che si chiama gestione integrata del rischio, ovvero far trasferire l'informazione dalla reattività alla proattività. È un momento particolarmente attuale per parlarne perché il risk management non solo sta vivendo una stagione di sempre maggior risalto all'interno della gestione e dell'organizzazione sanitaria, ma stiamo vivendo un'attualità di emergenza nella quale sempre più domande arrivano al risk management per chiedergli cosa fare davanti all'emergenza del Covid e alla crescita dei contagi. Soprattutto per questo vogliamo ringraziare il dottor Umberto Chiandra che è con noi, dirigente medico della struttura complessa qualità di smonaggine e accreditamento della città della salute e della scienza di Torino, che ha trovato un'ora di tempo per raccontarci un'esperienza concreta di trasferimento di informazioni e quindi di azioni di miglioramento nella gestione integrata del rischio. Ringraziamo anche Anna Guerrieri che è una risk manager di Risham in Italia e che moltissimi che ci state seguendo sicuramente conoscete già. Prima di iniziare come nostra consuetudine noi faremo un breve approfondimento, una sorta di visione di contesto nella quale approfondiremo un po' quello che è lo storico fino adesso. Lo faremo con il dottor Fiandra, al quale do subito la parola chiedendogli un po' qual è stato il percorso che ci ha portato dagli ultimi anni ad ora, nel quale il risk management è diventato sempre meno reattivo, ovviamente non più reattivo ma sempre più attivo e non più esterno ma sempre più più centrale nel processo di gestione delle informazioni e della programmazione sanitaria. Prego dottore. Grazie, buongiorno a tutti. È una domanda estremamente interessante. Se noi pensiamo quando nel 2003 la Commissione parlamentare ha iniziato a occuparsi di gestione del rischio in Italia ed è uscito poi nel 2004 il problema degli errori come primo documento ufficiale a livello nazionale e stiamo parlando di non tanti anni fa perché è più o meno 16 anni fa, 16-17 anni fa, ci trovavamo alla nascita della gestione del rischio, risk management c'era ancora il termine in inglese, ed era una situazione meramente reattiva, cioè noi avevamo dei problemi, avevamo degli eventi avversi, andavamo a cercarli e quindi andavamo ad analizzarli per capire che cosa era successo. Dopodiché dall'essere meramente reattivo nel tempo, ci sono voluti molti anni, intanto i clinici hanno iniziato a capire e a confrontarsi anche in Italia sul fatto che ci potessero essere degli eventi avversi e che questi eventi avversi avessero dei fattori di rischio ad essi correlati che potevano essere corretti. Dopodiché avanza progressivamente la conoscenza, vengono messe a disposizione dal Ministero tutta una serie di strumenti, strumenti di analisi, anche manuali ministeriali su come utilizzare strumenti come l'audit, come l'analisi delle cause profonde o root cause analysis che si voglia dire in inglese, per poi arrivare nel 2017 finalmente a una legge, che poi è la Gelli, che ci dà una piena dignità nella gestione del rischio e ne dà una importanza fondamentale. Allora, tutti hanno diritto ad avere delle cure che devono essere sicure, dove devono essere fatte? Ovunque, in tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie pubbliche e private e chi deve concorrere alla gestione del rischio per ridurre gli eventi avversi in sanità? Tutti. Quindi, a questo punto, dall'essere un fatto che viene dopo, una reazione, la gestione del rischio viene a essere una parte costituente del management di un'azienda sanitaria. Nel senso che si passa dal dire quando qualcosa va storto, andiamo a vedere che cosa è successo e facciamo un'azione correttiva, quindi reattivo, a una fase proattiva, andiamo a progettare, prima di mettere su un nuovo percorso, vediamo che cosa può andare male, a una fase predittiva. Io, la gestione del rischio entra talmente tanto all'interno della gestione dei processi aziendali che io devo costruire un sistema che deve essere safe per default e per design, cioè è parte costitutiva del management dell'azienda. In questo senso abbiamo l'enorme evoluzione della gestione del rischio. Oggi il pensare di progettare un processo sanitario che non sia di default safe è impensabile, ma è la stessa cosa che vi è accaduto prima che è accaduto con la 626 e poi con l'81 che è un'altra faccia della medaglia della sicurezza, la sicurezza del lavoratore. Oggi nessuno potrebbe pensare di costruire un processo industriale che non sia di default sicuro per i lavoratori perché sarebbe un criminale, criminale. Quindi anche nella gestione del rischio, quindi della sicurezza delle cure, noi nella visione moderna abbiamo una visione sistemica e manageriale della gestione del rischio che entra in tutti i processi sanitari che all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie devono essere di default sicuri. Questa è l'evoluzione che c'è stata. Mi inserisco in questo per coinvolgere subito Anna nella discussione perché lei ci ha raccontato un'evoluzione storica che nasce sia dal basso che dall'alto, in qualche modo confluisce quando lei dice chi deve occuparsi di sicurezza sono tutti, perché tutti i processi devono essere concepiti come sicuri ormai, non soltanto o nel caso dei vecchi processi aggiornati o completamente ingegnerizzati fin dall'inizio. Anna Guerrieri, abbiamo degli strumenti che ci permettono di fare questo? Intanto anche da parte mia, buongiorno a tutti e grazie di esserci e di ascoltarci. Sicuramente sì, prendendo proprio, ho preso qualche parola di riferimento da quanto introdotto dal dottor Fiandra, perché sono parole cardine, parole di riferimento su cui sempre fare attenzione, contenitori di significati importanti. Si è parlato di tutti, sicuramente sì, la gestione del rischio clinico, del rischio in genere, anzi, declinante al plurale dei rischi e responsabilità, e anche questa è una parola chiesa al poligno, di tutti. Ed è una cultura diffusa che dobbiamo sostenere, implementare, far crescere sempre di più nei contesti sociosanitari, a tutto raggio. E Shami in questo è il protagonista. La sua matrice proprio mutualistica la porta e questa presenza, questo affiancamento, per un contributo fattivo, concreto sul campo. Andre parole molto importanti e proprio propedeutiche a quello che vi esporrò, insomma, di seguito che ho in mente di condividere con voi, sono misurare e tracciare. È impensabile realizzare una governance sistemica che ponga la qualità al centro con tutta una serie di elementi costituenti che ne fanno proprio, come dire, che la formano, senza imparare in maniera qualità adeguata e costante e sistemica a misurare e tracciare qualunque il fenomeno. E un altro termine particolarmente che interessa, citato, che è oggetto di questa conversazione odierna, di oggi, è integrazione. Un'efficace gestione dei rischi deve prevedere l'integrazione, nella compenetrazione di diversi modi di valutare, misurare e cercare di rilevare questi rischi. Soltanto una modalità, tipo l'iniziale momento che il dottor Chiangra ha descritto, la fase reattiva, piuttosto che solo fase proattiva, non porta, non ci conduce in quell'integrazione efficace che permette l'esplosione dei significati, che permette di valorizzare veramente tutto quanto raccolto e di inserirlo, fattivamente, in forma ottimizzante, quello che è il nostro modo di lavorare, il nostro sistema di lavorare. Come vedete nella slide, mi piace particolarmente perché ci sono le rotelle che si incastrano. È esattamente questo. Siamo parti di un sistema complesso. Dobbiamo diventare sempre più responsabili di questo nostro agire, di questo nostro essere dentro un meccanismo più grande di noi, ma che senza il nostro accorto non funziona, non dà i suoi frutti. strumenti concreti, ma certo che ce ne sono, ce ne sono tanti, di letteratura ormai consolidati, ma anche qualcosa di innovativo, perlomeno di specifico, adatto ad essere calato sul terreno di lavoro, quindi messo a terra realmente, che coinvolga quanti più operatori possibile in gruppi di lavoro strutturati, multidisciplinari e proprio ecco nella tematica di avere dei tempi compatibili con tutta la nostra organizzazione. Quindi modi, strumenti, semplici, concreti e virgolettati, veloci, non nel senso di approssimativi, ma proprio perché per come sono costruiti, piegano un tempo ragionevole che ci permette di reiterare e di replicare il modello d'analisi, ci sono e Shannon ne porta avanti una in particolare, per quanto riguarda l'analisi proattiva, che si chiama cartolistica. È una metodologia di analisi a priori di processi, che può essere applicata sia in virgolettato in forma analitica, quindi costruiamo il processo, lo progettiamo, lo spacchettiamo nelle sue componenti, lo analizziamo specificatamente, oppure è una forma che applicata sul campo dà veramente ottimi risultati in tutte le variabili che vi ho individuato, utilizzando dei processi standard. Ecco un'altra parola da valorizzare nella sua forma più positiva. Lo standard a volte ci spaventa perché pone l'idea che non riusciamo a cogliere tutte le nuanze, tutte le accettature di una complessità. Ed è vero questo, è un aspetto sicuramente da considerare, ma validiamo le positività che questo ci comporta. Shanna ha costruito nel tempo, con l'esperienza consolidata sul campo, soprattutto lavorando insieme ai protezionisti alle strutture sanitarie, alcuni processi standard, virgolettati, processi essenziali nell'erogazione delle prestazioni. Faccio riferimento per esempio al percorso della persona assistita in emergenza, al percorso della persona assistita in area materno-infantile, al percorso del farmaco all'interno della struttura, al percorso, corretto percorso della documentazione sanitaria. Nelle live che scoprono grazie alle formato potete vedere proprio quelle che sono le principali fasi individuate. Sono macro, macro momenti che però ritengo siano momenti condivisi ormai, quindi passaggi essenziali. Relativamente a questi passaggi essenziali sono stati individuati una serie di rischi principali o perlomeno quelli che l'esperienza consolidata sul campo ha fatto rivedere. Vi parlo in particolare di un processo che è quello materno-infantile, che è stato strutturato in dieci sottoprocessi essenziali. Se lo fai vedere benissimo, grazie Tommaso, è esattamente questo. E complessivamente su questo processo sono stati individuati 72 rischi. Non sono pochi, non sono sicuramente esaustivi, ma sono un inizio per condividere processi essenziali e codifiche di rischi. Quindi imparare ad avere condivisione di criticità individuate, descritte, su cui possiamo fare dei ragionamenti insieme, non soltanto oggi, in questo momento d'analisi, ma anche domani, tra sei mesi, quando replicherò le mie valutazioni, per apprezzare quell'ogliato di differenza, di miglioramento, piuttosto che non, che nel tempo può essere intervenuto. Ecco, Anna, qui mi ricordo subito l'occasione, perché secondo me è proprio questa prospettiva di continuità che ci può accompagnare nel capire effettivamente nel concreto come funziona questo strumento, come può essere applicato a un territorio intero, una regione, un processo verticale con tutte le unità operative coinvolte, partendo appunto dai singoli processi analizzati, coinvolgendo il personale, coinvolgendo il risk manager, tutto c'è, una storia fondamentalmente che poi è una best practice che presentiamo oggi e che è avvenuta proprio nella regione Piemonte. Se vuoi raccontarci la storia attraverso l'introduzione della pratica a quello che è effettivamente il preludio della condivisione tra i rischi, diciamo la gestione del rischio e invece la gestione proattiva del rischio. Sì, esattamente, ci piaceva proprio l'opportunità di utilizzare questo tempo per portare casi concreti, quindi esperienze vissute, fatte sul campo, con la collaborazione veramente di tanti professionisti e di tanti operatori. Vi porto insieme a Umberto Chiangra, che è il protagonista insieme a me in una parte del percorso fatto, l'esperienza della mappatura del percorso della persona assistita in area materno-infantile in regione Piemonte. Anche qui approfitto per ringraziare tutta regione Piemonte, dagli apicali a tutti gli operatori che hanno partecipato a questo progetto. L'applicazione del metodo, quello che vi ho descritto sommariamente, denominato Cattorischi, su tutto il territorio piemontese, su tutte le unità operative di ginecologia ostetricia, comprese il percorso nascita sul territorio. Hanno partecipato a questa attività, a questo lavoro, 25 unità operative, hanno lavorato con noi 300 professionisti sanitari, compreso il dottor Chiangra e i colleghi del dottor Chiangra. E questa è stata già nella nostra progettualità un primo momento di analisi, che poi verrà piantato con la fase 2, che specificheremo nel proseguo della conversazione. Ma focalizzandoci sui risultati che abbiamo ottenuto. È stato un lavoro intenso, un anno e più di attività sul campo, che ha permesso appunto di mattare con lo strumento relativamente a quel processo standard utilizzato e i 72 rischi che sono stati in processo di analisi, ha permesso di scattare, grazie Tommaso, queste fotografie. ve le faccio vedere veramente macro e molto molto in semplice. Potete notare l'andamento, la distribuzione dei rischi d'ordi netti per i diversi sottoprocessi analizzati. Vedete le aree a maggior rischio che si sono palesate, cioè la parte territoriale e anche la parte post, facciamo riferimento a un percorso nascita e quindi tutta la parte gestione della gradianza sul territorio e le dimissioni post nascita, quindi problemi anche di depressione per la madre, presa in carico e quant'altro. Quindi vedete come la misura ci permette plasticamente di avere dei riferimenti confrontabili nel tempo con altri momenti, come determinati passaggi sono condivisi e anche le divergenze e le differenze che ci sono. Da tutta questa analisi, se vorrei passare alla legge successiva, sono state detunte circa 180 azioni di miglioramento. Ogni azione di miglioramento, anche la più piccola, prevede un progetto specifico di realizzazione, con una persona responsabile, un tempo medio di realizzazione, step di monitoraggio dell'azione stessa. Facilitare la comprensione, diciamo una fotografia macro anche di tutte, di tutte quelle correzioni che sono in corso d'opera, sono state individuate 47 tipologie di azione e 13 macro aree di intervento. Vuol dire lavorare insieme per obiettivi individuati che hanno codifiche specifiche e che possono essere misurati nel tempo per affettare cambiamenti. Questo è veramente un buon esempio di come un metodo di lavoro sul campo semplice, contratto in tempi ragionevoli, ma condiviso da una comunità, da una collettività, può dare veramente grossissimi vantaggi. Vantaggi oggi per comprendere un fenomeno, vantaggi per, soprattutto sotto il mio, modificarlo nel tempo, per capire cosa stiamo facendo. E quindi questa è una fase principale, prima di questa lavorativa che abbiamo scoperto. Esattamente, diciamo il punto, quella esperienza sul campo che sarebbe importante anche raccontare dal punto di vista dell'azienda sanitaria, nel senso lei dottor Feandra ha partecipato a questo processo, qual è stata la sua esperienza? Già solo partecipare al progetto è utile. Io professionalmente ho condotto due vite, perché nasco come un clinico puro, sono un medico geriatra e a un certo punto della mia vita professionale, ho preso una seconda specialità in igiene e medicina preventiva e ho iniziato a lavorare ormai 15 anni fa in direzione medica. noi colleghi, noi non siamo ingegneri e durante tutto il nostro percorso di formazione abbiamo una formazione che è molto individualista, che ha sicuramente dei vantaggi, perché ti mette in grado di fare il medico da solo, perché fondamentalmente il percorso di laurea è una forma dei professionisti che sono in grado di svolgere la professione medica. Ora, una cosa è fare il medico di medicina generale all'interno di un proprio studio, una cosa è essere integrato all'interno di un'azienda sanitaria in cui vengono svolti dei percorsi molto ma molto complessi attraverso processi. Dopodiché, noi sicuramente nessuna azienda sanitaria italiana è governata con un sistema di TQM, cioè il Total Quality Management, lo vedo di difficile applicazione e una gestione per processi non è la norma, anzi noi abbiamo una struttura che è basata per funzioni, esattamente quello che qualsiasi ingegnere ti dice che non funziona. Quindi già e molto spesso noi siamo costretti, in base alle funzioni che abbiamo, a fare un processo in una maniera o in un'altra. È difficile parlare di Kaizen all'interno di un'azienda sanitaria, dicono ma che cos'è un manga? No. Il pensare di avere ad esempio lo stabilimento, l'ospedale 22, l'ospedale 24, tipo lo stabilimento 22, lo stabilimento 24 dell'azienda e trasferire un professionista dall'uno all'altro, lo metti nella postazione, sono esattamente uguali e puoi iniziare a lavorare in un'azienda sanitaria è poco proponibile. Per cui già soltanto per motivi di sicurezza, quindi con un alto valore etico e quindi interessi professionisti perché vanno a vedere un po' quello che non funziona, iniziare a studiare dei percorsi per processi e non per funzioni è un fatto utilissimo, perché nell'esperienza che abbiamo fatto noi applicando un metodo di analisi proattiva che abbiamo forzato su dei processi che sono sicuramente diversi perché le aziende sanitarie sono tutte diverse l'una dall'altra, però ha costretto tutti i professionisti che su quel processo insistono a vedere una traccia su cui loro si devono poi comunque uniformare, quindi una reazione sicuramente l'ha avuto, una maggiore omogenizzazione, quantomeno nella rilevazione di quelli che possono essere i potenziali di servizi sul processo c'è stata, tenendo conto che visto che ci piace vincere facile, abbiamo preso un processo che è tanto già in qualche maniera guidato, perché è guidato dall'agenda della gravidanza, da cui sfuggono poi tutte le pazienti che si fanno seguire privatamente dal loro ginecologo, che però comunque molto spesso lavora anche in un ospedale, quindi l'agenda della gravidanza lo conosce, però sicuramente già solo il partecipare e quindi far ragionare per processi, io ti do uno strumento che ti fa un'analisi a priori, cos'è? Allora noi abbiamo un processo, lo spacchettiamo pezzo per pezzo e andiamo a vedere quali possono essere i guasti che effetto ti danno e anche il livello di criticità, questa roba si chiama Fneca, è semi quantitativa, però alla fine della fiera è un passo avanti enorme, perché ricordo non siamo all'interno di un'azienda dove quando chiedo a un ingegnere quel determinato pezzo che sinistrosità ha e mi dice ma l'MTBF di quel motore è 580 ore, però se spendiamo 50 euro in più lo portiamo a 720 perché prendiamo il motore migliore, da noi non è così, i mint time between failure ti fanno è cos'è? Giustamente abbiamo uomini, non abbiamo macchine. Mi scusi se l'interrompo, però mi viene spontaneo, ci riporta al livello che è quello dei dati, delle informazioni, perché di fatto non è che sia diverso in maniera del tutto, proprio concettualmente la ricerca di un'informazione precisa, è che un'informazione precisa è molto più complessa nel vostro campo che in un motore sostanzialmente. Sì, anche perché noi continuiamo a muoverci, quando parliamo con il dato, col medico che lo misura, quindi già quello avanzato, fa una valutazione di qualità di prodotto, è una via recube in che vada, non di processo, la mia statistica su questo tipo di intervento è così, io ho un tasso di complicanze di questo tipo di 1,3%, sì, bellissimo, però comunque è un'analisi sul prodotto e bene o male io ho un intervento di tipo reattivo cercando di ridurre il numero di difetti, ma se io faccio un'analisi sul processo, io non vado a intervenire sugli errori accaduti, io vado a prevenire gli errori a livello di processo prima che accadano. Però c'è una relazione… E' sicuramente un passo avanti enorme. Esatto, perché era la seconda idea, infatti volevo proporre due passi avanti, il secondo è anche fare un confronto, cioè la vostra è stata sì un'esperienza a priori, o per meglio dire una mappatura a priori, ma ha attinto a quello che è lo storico. Sì, se mi mettiamo le diapositive… Perfetto, un po' più indietro, alla 15. Questa qua. Ecco, il ragionamento è stato poi proprio questo, questo è stato un colpo di fortuna, a volte capitano, a volte capitano anche i colpi di fortuna, nel senso che una possibilità di collaborare con la facoltà di economia, tra l'altro con un bel team di ricerca, con un professore del dipartimento di management, un dottorando di ricerca che è un ingegnere gestionale, quindi all'inizio non ci capivamo per niente, però è estremamente utile il supporto dell'ingegnere gestionale che poi ti permette di capire anche meglio le cose che fai, una bravissima tesista della specialistica, una intelligente compagnia assicurativa che ha permesso anche con un piccolo contributo di dare anche quel minimo di retribuzione alla studentessa per poter portare avanti lo studio. Qual era l'idea? Ok, noi abbiamo fatto una bellissima analisi a priori, ok? Ma questa analisi a priori che abbiamo fatto, c'è azzecca o non c'è azzecca? Perché poi alla fine e quando tu ti fai, ti costruisci un modello, un prototipo per un'analisi di processo, devi poi capire se tutto questo in qualche maniera funziona o meno. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli eventi avversi dei 5 anni precedenti, 2014-2018 e quindi siamo andati a vedere come matchava l'analisi a priori fatta da noi rispetto a quello che era realmente accaduto negli anni precedenti. dopo di che qua bisogna notare che sicuramente un bias c'è. Allora quando tu fai un'analisi di processo per andare a cercare dei fault, non è detto necessariamente che il danno determinato dal fault si renda manifesto, si renda manifesto esattamente per ciò che è stato e dia poi luogo a un contenzioso. Perché noi siamo andati a cercare quelli che erano eventi avversi e contenziosi degli anni precedenti. non è detto che emergano tutti e non è detto che poi tutto quello che emerge sia poi conseguente a un fault del processo ma potrebbe essere dovuto per motivi pretesposi a tutt'altro. però fatta la tara che comunque ci deve essere, in realtà è stato estremamente interessante andare a fare il confronto. Quindi abbiamo cercato l'interesse da quello di capire le relazioni tra gli esiti dell'analisi a priori effettuata sul percorso nascita e gli eventi avversi accaduti nei 5 anni precedenti. ovviamente con lo scopo di migliorare il percorso di analisi a priori dei rischi per vedere se vedendo quello raccaduto si poteva in qualche maniera andare a migliorare e raffinare il nostro strumento, il nostro carto rischio quindi il nostro metodo di ricerca. È stato un lavorone, abbiamo raccolto tutti i dati come diceva la dottoressa Guerrieri senza utilizzare uno strumento raffinatissimo. Abbiamo un però molto potente in realtà perché con un excel appositamente formattato siamo riusciti a individuare i diversi eventi che poi abbiamo graficato e tabulato per comprenderli meglio. Allora il percorso standard abbiamo come ha detto prima la dottoressa Guerrieri è suddiviso in 10 sottoprocessi con 72 rischi individuati. Allora lo studio sui sinistri accaduti nel 2014-2018 ha rilevato l'assenza di eventi avversi nei seguenti sottoprocessi P0, P2C e P2D. Notare una cosa che il P2C era valutato come il momento più critico del percorso anche perché secondo me emotivamente è anche quello più temuto, cioè la fase espulsiva del parto. In complesso i rischi standard riscontrati nello storico dei sinistri erano di circa quasi il 10% quindi nella bassa percentuale di rischi standard riscontrati. Dobbiamo dire una cosa che in realtà il percorso che abbiamo in ostetricia in generale è un percorso che è caratterizzato da eventi avversi che sono relativamente poco numerosi però quando capitano di solito sono catastrofici, quindi sono potenzialmente molto ma molto gravi. In realtà il numero di eventi avversi non è così alto. Devo dire che ad esempio il percorso di mortalità materna in Italia è stato negli ultimi anni sottoposto a una revisione richiesta dall'OMS perché i dati che noi avevamo erano i più bassi al mondo ed erano talmente bassi che l'OMS ha detto non sono credibili. Per cui in realtà andando a rivedere sistematicamente tutte le morti materne avvenute nel periodo della gravidanza del puerperio si è visto che alcune parti, alcune di queste morti andavano perse per cui i dati pur rimanendo ottimi sono diventati un po' più elevati. Andiamo ancora avanti. Allora, il percorso standard utilizzato per l'analisi del processo ha posto un maggior accento sulle attività organizzative di comunicazione dell'equipe del lavoro però potrà essere implementato con nuovi rischi derivati a maggior valenza clinico assistenziale. Allora, i rischi netti di azione di miglioramento che l'analisi a priori ha percorso 2018 ha evidenziato che non sono presenti nei sinistri caduti nel periodo 2014-2018. Ad esempio, l'R50 è il rischio di memoragia postpartum ritenuto ad alto rischio in tutti i settori perché si presume che ci sia la consapevolezza negli operatori del livello di rischio pertanto allerta e formazione continua. E questo è quello che abbiamo visto prima. I rischi più temuti, quelli che possono dare le conseguenze più gravi sono quelli su cui gli operatori sono più attenti perché è quello che temono di più. Mentre era sottovalutato a priori il sottoprocesso P1 gravidanza esami e che si rivela nell'analisi di sinistra effettuati quello a maggior rischio su cui implementare il controllo ed azione di miglioramento condiviso. Allora, su questo è un campo secondo me estremamente vario perché è uno di quella parte forse del processo che è anche più difficile da controllare perché è al di fuori normalmente di quello che è la struttura ospedaliera tutta la parte di esami che vengono fatti nel corso della gravidanza e che è più soggetto alla variabilità data da come è seguita dalle condizioni socioeconomiche di quella paziente. È vero che noi abbiamo un percorso gravidanza che comunque ci dà tutta una serie di sicurezza anche per situazioni difficili. Non è necessariamente vero che sempre però c'è una compliance completa rispetto a questa fase del percorso. Io vorrei di intronterromperla proprio per provare a fare una sintesi perché le chiedo conferma quello che traspare è che uno dei grandi valori del confrontare i dati sinistri precedenti con un'analisi a priori è quello di portare un elemento di realtà nell'analisi a priori quindi riducendo quelli che possono essere dei bias nati dalla paura, dalla grandezza del possibile evento avverso e magari mettendo in risalto invece altri pericoli che sono più piccoli, meno spaventosi ma più collocherati e più frequenti. Quindi in qualche modo la raffina in questo senso? Sì, anche perché poi un altro… allora questo è il classico percorso, cioè il classico processo transmurario quindi è un processo che inizia su territorio e può finire, spesso finisce all'interno di un ospedale. Allora questo tipo di processo ha tra le altre cose un comportamento diverso a seconda di dove viene perché se noi abbiamo per esempio un territorio e un ospedale che fanno parte della stessa azienda sanitaria c'è sicuramente un miglior raccordo tra la fase extra ospedaliera e la fase ospedaliera del processo. Però le gravidanze più a rischio, quelle più difficili spesso terminano all'interno di ospedali hub ma gli ospedali hub molto spesso sono delle aziende sanitarie ospedaliere o delle aziende ospedaliere universitarie così in Piemonte che non hanno territorio e per esempio lì una grossa criticità nel processo è il passaggio di informazione e il feedback tra l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera. E quindi il fatto di aver lavorato sull'intero processo ha imposto anche agli operatori sanitari di entrambi gli attori di migliorare il loro processo comunicativo perché se no c'è una vera e propria interruzione in cui la comunicazione è data solo dalla parte cartacea o dalla paziente che racconta la sua storia. Certo l'adozione che ancora non c'è di un buon fascicolo sanitario elettronico ti dovrebbe permettere di ridurre questo tipo di rischio comunicativo. però quello che dice lei è giustissimo perché l'operatore sanitario che si trova all'interno di una grande struttura ospedaliera è molto concentrata sui rischi che deve affrontare lui o lei nella sua fase del processo e magari non tiene conto di tutta quella parte antecedente che però è molto ma molto importante su cui magari non può intervenire però se noi riscontriamo che l'evento avverso che si verifica adesso ha avuto un'origine in una carenza prima è fondamentale passare il feedback all'altro attore in modo che possa mettere in atto l'azione correttiva e poi noi misurare gli effetti delle modifiche introdotte. Quindi anche a livello comunicativo è fondamentale. Questo mettere assieme i pezzi sia presente e passato sia a livello territoriale ha creato delle dinamiche, delle azioni, ha creato una continuità. Sì, le rotelline della seconda diapositiva che tanto piacciono alla dottoressa Guerrieri però sono fondamentali. Se noi non abbiamo una visione sistemica di processo della gestione del rischio serve relativamente a poco, cioè per l'amor di Dio serve però non basta. Il risk manager che lavora all'interno del comitato gestione sinistri come si chiama da noi o CVS come si chiama in altra regione comitato valutazione sinistri che decide di fare un'analisi delle cause profonde su quel determinato evento avverso e oltretutto si avvale in questo di quello che è già stato fatto non dal suo medico legale aziendale ma se ci troviamo di fronte a un contenzioso abbiamo il parere del nostro medico legale e dei nostri specialisti il parere degli attori il parere del consulente tecnico del giudice quindi quell'evento avverso viene sviscerato in maniera molto ma molto importante ed è una miniera incredibile di informazioni che messe a sistema mi permettono seriamente di andare a rafforzare i miei processi tenendo conto di una cosa che è piuttosto difficile che possa venire una grossa azienda a proporre a un risk manager un grant per fare uno studio cioè non verrà mai e quindi dobbiamo sempre fare quello che i nostri dati dobbiamo elaborare con i fichi secchi però in realtà noi un finanziamento ce l'abbiamo visto che i soldi per difenderci li dobbiamo spendere perché abbiamo comunque tutta la parte di contenzioso e lì facciamo un'enorme quantità di analisi non usiamoli solo per difenderci ma mettiamoli a sistema utilizziamo questi dati visto che analizziamo eventi avversi capiamo in quei casi in cui c'è un difetto da parte dei processi aziendali abbiamo notato che quella cosa non ha funzionato allora non limitiamoci a dire quello non ha funzionato paghiamo e cerchiamo di andare in transazione in conciliazione il prima possibile di non arrivare a setenza ok questo lo facciamo per tutelare il patrimonio aziendale però poi anche prendiamo le informazioni ce le portiamo a casa risoniamo sul processo e vediamo di migliorarlo ecco e l'analisi c'è da questo punto dal punto di vista del risk manager quell'analisi non mi è costata niente perché deriva dalla libertà sulla parte di gestione del sinistro tanto le avrei spesi comunque esatto ma proprio per questo dottore ricordando un piccolo inciso a tutti coloro che stanno ascoltando che chiunque voglia fare delle domande può scriverlo nella sezione lato e poi le rivolgeremo ai nostri redattori negli ultimi dieci minuti io farei diciamo il passo finale sostanzialmente con il dottor Chiando dicendo d'accordo quindi visto che facciamo già questa analisi visto che basterebbe metterle in qualche modo a sistema perché per dire nel senso applichiamo è anche in previsione di ridurre gli esarcimenti sostanzialmente e cioè ridurre gli interversi cosa c'è bisogno perché venga messo al sistema ci sono competenze ci sono tecnologie ci sono soldi cosa serve? allora intanto se andiamo a vedere un sistema c'è perché SIMES il sistema per il monitoraggio degli errori in sanità quello che viene utilizzato per inserire gli eventi sentinella per gli eventi sentinella funziona bene nel senso che negli anni dal 2009 in poi da quando SIMES è a sistema di eventi sentinella tutte le regioni ne hanno caricati molti ed è servito perché poi con il il database che tu hai gli eventi sentinella hai anche tutti quei casi reali che ti servono per costruire poi le raccomandazioni per prevenire il verificarsi di quel tipo di evento sentinella però SIMES non serve soltanto a quello la seconda parte di SIMES serve per diciamo creare un big data di tutti i contenziosi quindi di tutti che si verificano all'interno delle aziende sanitarie allora al di là del fatto che ci sono anche degli obblighi di legge dati dalla Geli di pubblicare questi dati ma se raccolti in maniera sistematica e strutturata questi dati sono estremamente utili intanto perché sono molto più degli eventi sentinella perché sono decine decine di migliaia di eventi il problema è costruirli e caricarli bene nel senso che da quel punto di vista lì in molti casi c'è diciamo una sottoutilizzazione spesso non è stata fatta una formazione ad hoc chi carica questi dati molto spesso ha una formazione più di tipo legale amministrativo che sanitario per cui diventa anche difficile capire come incasellare quel determinato tipo di dato però se noi riuscissimo a permettetemi il volo pindarico a trascrivere un fatto di contenzioso in una specie di sdo del contenzioso alla fine avremmo un potente strumento di costruzione e di elaborazione dati che ci permetterebbe di mettere a sistema questa enorme esperienza questo è una cosa e questo andrà fatto questo inevitabile che panoramica vedi con diciamo con questa trasformazione che scenario può costruire anche nel rapporto tra nel rapporto vasto diciamo tra assicuratore risk manager esterno e risk manager interno azienda sanitaria penso che sia necessaria fatibile realizzabile estremamente utile e poi ecco proprio l'esperienza contratta sul campo che vi stiamo raccontando è la prova retta tutto questo si può fare mantenendo gli interessi specifici di ogni attore che partecipa ma focalizzandosi su quello che è il percorso comune che interessa tutti cioè la riduzione dei rischi la conoscenza di questi è una cultura diffusa che migliori veramente la consapevolezza e implementi fortifichi la variazione dei comportamenti dei professionisti e questo può essere fatto queste sinergie possono essere create ciò che stiamo narrando oggi come esperienza diretta grazie al dottor Chiandra che ha partecipato è proprio l'identificazione questo si può fare torno su punti essenziali di riassunto se mi permetti di dire il percorso che è stato fatto sicuramente il dottor Chiandra ha accennato la qualità del dato un punto fondamentale se non impariamo ad avere rispetto del dato a capire cosa bisogna inserire nei campi dedicati anche nel nostro semplicissimo Excel non avremo niente che ci vogliamo o che ci auguriamo se carico spazzatura troverò spazzatura alla fine che non imparerà a vedere niente anzi sarà accordiante quindi un aspetto fondamentale veramente la qualità del mio dato ciò che abbiamo fatto l'esperienza di integrare una modalità proattiva di analisi con le modalità relative di analisi ci ha veramente esemplificato il punto che lavorando su un dataset costruito bene che a fianco ha la definizione classica del filistro con i dati e gli accantonamenti piuttosto che fa riferimento anche a quello che già si dispone a quello che già il simetro ci chiede ha integrato ancora con una profilazione del finistro nella storia che è accaduta nell'evento avverso accaduto con la sua individuazione collocazione in un processo in un sottoprocesso identificato permette veramente di trarre il massimo da questi avvenimenti e trasferirli poi nel nostro modo di lavorare anche proattivo se io ho questa data base che riesce a mettere insieme l'evento avverso accaduto tenete conto che ciò che abbiamo fatto è molto relativo ne ha accennato il dottor Chiandra prima ma lo supposito per chi ci sta ascoltando proprio perché progetto pilota abbiamo preso in considerazione i sinistri virgolettato richiesta risarcitoria pervenuta da questo punto da questo primo specchio di analisi si può allargare e possiamo pensare di costruire il nostro database di riferimento con conti dati anche di eventi avversi accaduti in genere di sentinella quindi con delle implementazioni tenete conto quanto si va ad implementare quanto cresce quanta questa mia raccolta diventa esplosiva nelle sue potenzialità l'idea però che deve accompagnarci e che è necessaria una profilazione degli eventi accaduti di ciò che prendo come base della mia analisi di reattiva che deve essere migliorata migliorata nella qualità del dato espansa esplosa in quello che è il processo a cui l'evento fa riferimento ecco dove ci aiuta moltissimo il costruire insieme processi standard di riferimento con sottoprocessi individuati codificati rischi specifici individuati codificati l'esperienza ci ha insegnato che da quanto era pensato nel nostro processo standard sull'area materna infantile sono stati come dire importati inseriti tutta una serie di nuovi rischi che di là non erano contemplati e che invece la realtà in concreto l'analisi del fatto accaduto ci ha tirato fuori se l'analisi proattiva era più orientata a modalità organizzative l'analisi dei sinistri ci ha fatto vedere che ci sono tanti eventi proprio clinico-assistenziali e quindi l'interfaccia può essere fatta implementando il mio percorso quindi suppo chiaramente fare la chiave l'integrazione l'integrazione di modi di guardare le cose facente e costruire una cerniera tra questi modi la cerniera che costruiamo deve essere attenta deve prevedere codifiche deve prevedere misure scale valoriali convenute tra tutte le persone attori del mio processo di analisi questo permette ovviamente la condivisione di una cultura che deve diffondersi e che può approdare poi ad una variazione del comportamento dell'operatore che coinvolto in tutto questo coinvolto nelle attività di analisi in gruppi di lavoro specifici comprende quanto la sua azione individuale fa la differenza inserita in un sistema ecco questo qua diciamo proprio sul discorso delle differenze dottor Senda io le farei l'ultima domanda perché di fatto ed è un ritorno all'inizio proprio alla premessa del nostro ragionamento lei disse che a un certo punto il il risk management e tutte queste esperienze che si sono accumulate negli anni sono entrate a far parte non dei processi in atto ma addirittura dell'origine dei processi cioè vengono vengono con sostanziali che è una parola forse un po' diciamo così accesa ma sostanzialmente diventano una parte del meccanismo di default dei processi ovviamente tutto il percorso che noi abbiamo raccontato in quest'ora non può essere applicato a quella che è l'emergenza del momento degli ultimi mesi al covid che voi vi trovate ad affrontare perché ovviamente non c'è storico ma l'esperienza di queste queste altre eventi vi ha aiutato vi sta aiutando a costruire quello storico in vista anche di una diciamo di una di una resistenza alla pandemia che probabilmente è sul lungo periodo o sul medio lungo periodo sì intanto la cosa fondamentale la prima cosa da capire è comprendere che bisogna costruire uno storico forse la parte in cui noi siamo rimasti più discosti rispetto per esempio alle compagnie assicurative e proprio che è una cosa che viene contestata spesso anche dalla Corte dei Conti e che quelle regioni che hanno adottato dei sistemi alternativi all'assicurazione tramite una compagnia assicurativa in realtà non hanno costruito delle imprese assicurative regionali ma dei fondi che vanno a coprire le spese sostenute però in realtà l'attività di una compagnia non è soltanto questa cioè se noi non abbiamo uno storico dei sinistri adeguatamente catalogato su cui dei matematici che sono gli attuari fanno dei loro studi statistici per capire quali possono essere anche le previsioni non stiamo facendo l'ultima parte di gestione del rischio accantoniamo semplicemente delle riserve perché qualora cadano degli eventi avversi abbiamo la possibilità di far fronte come spese non sono delle spese straordinarie basandoci come concettualmente sullo storico dell'anno precedente o degli ultimi anni non si dovrebbe lavorare in questo modo nessuna compagnia assicurativa può permettersi di lavorare in questo modo questo per quanto riguarda la gestione come posso dire economico finanziaria del sinistro avere però uno storico importante degli eventi avversi ti permette anche di elaborare delle strategie perché se è vero che io posso imparare dall'errore però per imparare dell'errore devo avere comunque contezza avendo dei grandi numeri di che cosa non ha funzionato è il motivo per cui nello stabilimento sempre delle solite imprese giapponesi perché sono stati i primi in catena c'era la cassettina dove l'operaio che tutto il giorno stringe bulloni e alla fine dice sì certo che però se potessimo spostare due centimetri più in là io farei meno fatica verrebbe meglio dà il suo suggerimento e scopre che quando riprogetta una nuova linea hanno preso per buono un cambio della curva importante diciamo quindi non è impariamo dagli errori forse dovremmo dire impariamo dal complesso di segnalazioni di record che tutti assieme indicano un trend non diciamo questo potrebbe essere e quindi diciamo questo è stato molto diciamo in qualche modo molto concreto questa chiusura perché dice fondamentalmente l'ultimo passaggio dell'esmanagement è quello di arrivare alla sintesi matematica di tutto quello che è venuto prima è anche il primo passaggio del ciclo successivo è una formazione ad anello e con questo che è una perfetta conclusione per la nostra ora esatta di webinar io credo che tutti quelli che ci hanno ascoltato hanno avuto un trasferimento di un messaggio importante e concreto vanno via con un piccolo mattoncino di consapevolezza in più di se non è successo questo e ha queste implicazioni perciò a me non resta che ringraziarla tantissimo grazie a voi grazie tantissimo e grazie a tutti coloro che hanno dedicato un'ora del loro tempo ad ascoltarci e a dare significato al nostro essere qui e condividere un altro pezzo di risk manager è un altro best practice che trasferita in contesto dopo contesto dopo contesto per la legge di grandi numeri di cui prima può fare la differenza può avere un impatto con questo vi saluto tutti e tutte e vi do appuntamento al prossimo webinar che è fissato per anticipo lunedì 9 novembre e tratterà della consentenza delle sezioni unite relativamente a un tema importante dal punto di vista legale assicurativo che è la rivolsa dell'azienda sanitaria e la competenza del giudice un'altra faccia completa ma sempre all'interno di fatto un ambiente vasto e interconnesso del risk management e della sicurezza grazie a tutti e a tutte e buona continuazione e buon weekend anche e in bocca al lupo al dottor Piandra che è in prima linea in questa seconda grazie 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 i partecipanti ciao